cina quanto quanto questo signora scusa signola un euro nocina signola imparate educazione signola quanto costa questo negozio regola io sono polizia municipale controllare qua se tu fai il furbo o no allora ascolta un attimo cosa hai detto sei polizia municipale allora dammi il documento no non ce l'ho polizia municipale e dopo che sei polizia municipale vieni con me fuori un altro polizia municipale frega un c***o bene andiamo andiamo no non spengo un c***o che ce l'hai un documento no non ce l'hai inutile che mi rompi sto lavorando io lavorando a far che lavorando sto facendo una diretta su internet sto facendo soldi come tu stai facendo soldi andando a lavorare io sto facendo soldi così sto rubando sto facendo ma del mario cosuno chiedendo non mi toccare 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 mi pure con la macchina mi seguono ma fa ancora c***o ma che grande c'è il centro ne vieni pure sirene seguimi seguimi tanto torino non è tutta strada dai entra qua non entri più qua eh torino come america polizia tutti mi stanno seguendo tutti wow che casino vuoi ci dare adesso entrare qua a fottere tutti mi stanno seguendo chi è che mi sta seguendo boh non lo so c'è un'altra uscita da qua ti vuoi fermare? no non mi fermo aiuto aiuto polizia aiuto aiuto qua c'è fiato fino a domani anzi adesso scavalgo no ma visto lo str**o ciao 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 E' un migliano! 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 Mi nascondo in garage ragazzi!